Ovunque vada, fa strage di cuori. Arrivato sul lago di Zeo per girare uno spot, l'impareggiabile George Clooney è stato accolto da uno stormo di fans. Nelle immagini di Bergamo News lo vediamo uscire dai cantieri navali in riva e avvicinarsi alle tante ammiratrici che lo attendevano. L'attore olivudiano, che in Italia ormai di casa, le ha salutate così. Buongiorno, buongiorno! Potrebbe, dopo il collega Ronald Reagan, aspirare alla Casa Bianca? Perché no? Manca soltanto una First Lady. Il settimanale Key lo ha però immortalato insieme alla fidanzata Stacy Keebler durante la presentazione ufficiale a mamma e papà Clooney. Forse il bel George ha finalmente messo la testa a posto.